Allora, mi piace questa frase perché è esoterica, no? L'ha detto Howard Hill Howard Hill, per chi non lo sa, è quello che ha fatto la controfigura di Robin Hood nei film degli anni 50 quello che ha spaccato la freccia in due nei film di Errol Flynn comunque è stato un grande cacciatore di tiro con l'arco ed era comunque uno che la sapeva l'uno indipendentemente, forse comunque in attività dagli anni 30 agli anni 50 e ha scritto parecchi libri tra cui questa frase mi ha colpito questa frase l'ha detta negli anni 30 però è sempre valida, ragazzi, è sempre valida non l'ha detto solo Berti, solo per dire, l'ha detto pure Howard Hill quindi, se guardo, ma sto facendo... Allora, una cosa, visto che è arrivato da tempi antissimi c'è stato un altro accetto, un livello, invece, facendo l'esatto contratto aggredire, usava la freccia come punto di riferimento e spostava l'attenzione nel punto che doveva colpire cambiava il mondo ripetimi il sistema lui usava la punta della freccia come un riferimento quindi metteva a fuoco la punta e teneva sfocato la punta in un determinato punto del versante spostava l'attenzione dalla punta che spariva al centro del versante prima la metteva lì e poi toccava l'attenzione tutto sommato ci sta tutto sommato ci sta sappiate per vostra... chi è? Michele Oneto Michele Oneto per un anno Michele Oneto va beh, ma indipendentemente figurati io prima collimavo proprio io invece ci pigliava, ho fatto 5,60 mica l'ho fatto così 5,60 l'ho fatto collimando e stringendo pure l'impugnatura non sto stato però a raccontarvi questa storia perché non avrebbe senso dire che Verdi ha fatto nel 2003 560 punti stringendo l'impugnatura e tenendo la punta a tutti i costi nel giallo perché non avrebbe... di fatti poi non ha più funzionato poi quando non ha più funzionato lo fai qui esatto ma qualcosa che abbia però un senso un senso territorio un senso esportabile un senso che possa raccontare cioè che può servire se no che senso avrebbe se io gli raccontassi una cosa che alla fine ha funzionato solo con me però giusto appunto per dire cosa ha fatto il buon Michele mi ha fatto vedere il mento una cosa molto più importante e cioè come fanno i tiratori di pistola abbiamo Cristiano che è stato nazionale tiratore di pistola quindi lo potrà confermare i tiratori di pistola per mirare per mirare mettono a fuoco il mirino e tengono sfocato ovviamente lo affacciaggio poi pensate a tirare 10 metri come la classica pistola olimpica e dove il punto di mira è grande 4 millimetri quanto è grande forse 4 millimetri 4 millimetri c'è giusto il pallino e non si vede neanche dove devo mirare si vede questo cartoncino che è grosso così in cui ci sono 10 cerchi che vedo e non vedo quindi io vedo solamente la punteria quindi scendo con la punteria collimo con la mia piottra con la mia vi che c'ho così con la punteria ci sono tante sistemi e strategie dipende dall'allenatore come fare ma metto a fuoco la mia ma là non vedo niente e alla fine è la stessa identica cosa perché io non vedo cosa sto colpendo però va però faccio il centro perfetto sarà 10 metri ma prendo una cacca di mosca e uso le stesse strategie per poter fare ma stessi identiche strategie non sto inventando niente c'è già gente che l'ha già inventata queste cose qua il cazzo se funziona perché non veniremi a dire che collimi cosa collimi che non vedi cosa collimare si collimi queste due affari ma speri dalla tua postura dal tuo tiro che è curato tanto tanto bene e poi alla fine quando tiri e poi parliamo di tirare il grilletto un'altra bella storia quando il grilletto scatta diciamo così però più o meno va nel centro che non vedo ma una scusate una domanda quando si parte con la prefazione la punta è nata a posizione una punta neri che quando arrivi dal coraggio la collina si è nel centro ok sì perfetto mi piace chiamarlo confronto esattamente questo parliamo più a 18 metri può essere 50 ma quando sei in un altro rifiuto questa posizione di patenza rimane sempre uguale oppure no allora sì ricordatevi ricordatevi una cosa molto importante che nelle attività sportive c'è ho parlato prima a caso di cinestesi e proprio eccezioni c'è una cosa molto importante che crea l'allenamento l'allenamento crea questa che in gergo metodologico si chiama disponibilità variabile e cioè io allenandomi il mio corpo il mio cervello grazie alla cinestesia la propria senza tanto per fare i paroloni che piacciono tanto ai professoroni adatto mi adatto alla situazione mi adatto alla situazione a seconda della situazione io adatto il tiro adatto la mia strategia oh non c'è quello faccio in modo che poi funzioni tutto uguale che dici mi appunto parte l'arma devi sempre rimanere certamente assolutamente guarda ti assicuro che la strategia migliore e la strategia migliore è quella che mi permette di concentrarmi perché poi cosa vogliamo fare se tiro bene la freccia va bene se tiro di merda la freccia va bene quindi io mi devo concentrare sul tirare bene non posso concentrarmi sulla collimazione non riesco a concentrarmi no figuriamoci quello con la pistola fa guarda metta fuoco il bersaglio metta fuoco il migliore metta fuoco il bersaglio al resto lo ammazza tre arbitri no ci sarebbe il trucco di un occhiale intermedio per esempio se si ha una tuta visiva di uno e cinque poi ci sono tutte le persone sanitàzioni però io devo oggi un'intermedio con la 0,75 più o meno anche sassomiglia comunque eh sì prima parlavo dell'aria compressa parlando del carico di precisione abbiamo dal 10 al 6 è bianco dal 6 al 10 scusa dal 1 al 6 è bianco dal 6 ho provato anche a tirare un po' al 10 bianco quindi si mira alla base del 6 e quando si vede perfettamente il cerchietto è perfettamente appoggiato con un soldino sopra il mirino si sa che si era un'altra ma te sai giusto appunto che io queste cose non le ho provate anzi non le ho provate siccome facevo più punti con le frecce facevo più punti con le frecce che con la pistola la pistola è subito venduta però ho parlato con gente in gamba che mi ha detto il discorso che per quanto sia il no il giallo in generale è grande e noi non sappiamo in che fin possiamo bianco allora se la luce ce lo consente noi mi chiamo io personalmente miro la base del giallo di maniera da avere il giallo come un soldino per il vostro qua perfetto allora l'idea l'idea scusate vado a me a perdere la macchina se no non rimango a tutti a toglie il registro due minuti hai detto cinque minuti allora l'idea è questa no la mia filo dando la mira deve essere eseguita con la mente gli occhi sono solo un mezzo di comunicazione con il nostro servente gli occhi devono solo osservare il punto da colpire la mente in modo sulconscio farà spostare l'arco in modo appropriato anche e soprattutto utilizzando appunto la freccia come riferimento visivo quindi potremmo considerare i restintivi inconsci a parte integrante di tutti i tipi di arco e di tutte le piacce di tiro è logico no sia con par abbiamo visto sia con par ovviamente con precisione maggiore sia anche nell'olimico sei là tra l'altro non riesce a tenere tutto fermo quindi ti infili un po' della tua della tua forma di tiro la mia è solo un passo la nostra sequenza e non deve mai essere il fine la mia deve continuare a far parte anche del fronto prima di imparare la freccia cioè infatti impedisce dei movimenti dati dalla curiosità di seguire il volo la testa dobbiamo tenere ferma un po' come per il corpo lo swing noi troviamo sapete un full-true a cosa serve no? se io devo correre i 100 metri devo fare i 100 metri quando corro i 100 metri non chi corre non deve mai pensare che il traguardo è a 100 metri perché il traguardo va passato al massimo della velocità che mi permette il mio corpo il traguardo deve essere passato al massimo della velocità perché se io penso che il traguardo è finita la gara inconsciamente potrebbe darsi potrebbe darsi che possa mai inconsciamente ralentare quindi siccome io il traguardo lo devo passare al massimo della velocità non c'è un traguardo boh mi fermerò come il ciclismo eccetera eccetera quindi questo è il nostro follow-to noi non dobbiamo pensare che il rilascio sia alla fine del tiro se no siamo ahimè non ci conviene quindi dobbiamo mettere una contromisura qual è la contromisura? quando sono qua io qual è il mio ultimo pensiero? il follow-to e andare giù solo l'impatto dalla fregge tocco tocco scelto e bisogna assolutamente immettere questo allenamento nella tecnica di tiro perché è una strategia molto importante una strategia che all'olimpico fa sempre anche i bambini di 2-8 anni glielo fate fare allora lo so lo dovete raccontare voi questa storia perché agli archiolifici glielo fate fare bello l'affare che gira tutti là po tutti incazzutissimi l'arco nudo po e non dite niente la mira vediamo ora all'alentatore cosa capita dall'ancoraggio rilascio così ripassiamo tutta quella ambara che abbiamo visto in questi due il massimo trascicomo della mira occupa uno spazio veramente esistente la tecnica dell'arceria moderna micro solidale ci dice che una volta raggiunto l'ancoraggio che dobbiamo fare caricamento trasferimento mantenimento mira espansione rilascio chi si inclina ha detto eh qui ti voglio posso Berti può anche ripeterlo la mira vera e propria deve iniziare solo dopo l'ancoraggio la mira vera e propria deve iniziare solo dopo l'ancoraggio dopo aver raggiunto e la faglia di trasferimento dopo aver raggiunto il mantenimento sposteremo come abbiamo visto la scapola della corda verso la spina dorsale questo dovrà essere un movimento interno non ci dovrà essere nessun movimento percettibile dall'esterno quindi anche qui per farli dovete fare attenzione a coordinare bene questo movimento il sul coscio deve essere impegnato a sistemare la punta della freccia nell'area di mira in modo fluido e fluttante abbiamo a fuoco solo il punto da colpire come abbiamo detto poco fa questo movimento della scapola della corda verso la spina dorsale mentre rilassiamo la piacchiamo la cassa torace la copiata la ricerca di espressione verso l'versale più che altro nell'alco ludo o nella visualizzazione mentale permetterà un'espansione sufficiente di rilasciare le dite in modo automatico in una sorta di clic e ripar poco poco impercettibile però non dobbiamo chiuderci questo perché deve avvenire questo perché deve avvenire questo perché è importantissimo 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 che io prima rilascio la corda e dopo perdo tensione alla spalla perché se normalmente tutti al rilascio perdiamo tensione sincronizziamo la la tensione della spalla dell'alco con il rilascio della dita fate il caso i vostri allievi sicuramente succederà questo quindi dobbiamo ed è un po' controintuitivo ecco perché specialmente i neofiti che iniziano con l'arco l'uno o chi vuole migliorare deve per quello estensione della spalla dell'arco e mantenere la stessa durante la trazione poi bisogna spostare la tensione sul braccio dell'arco e disinteressarsi del rilascio che avverrà automaticamente in modo tale che avremo il rilascio ma l'attenzione è solo in braccio dell'arco perché il braccio dell'arco è un conto nell'arco l'uno o k o k sospendiamo due minuti poi finiamo a che ora andiamo stamattina allora mi è una sorta di clicker virtuale diciamo così durante questa fase la tradizione andava completamente a restare sull'espansione qualsiasi pensiero conscio di essere dimenticato oppure la connessione con la muscolatura non penso a rilascio tutte cose che vi ho detto che vi invito a sperimentare una buona strategia potrebbe essere una buona strategia potrebbe essere quella di partire con la punta della freccia in linea con il centro da colpire già in pretrazione in modo tale che la posizione della testa da questo momento in poi non si debba più muore o dal dal centro o da un altro punto questo secondo la sperimentazione che vi può permettere di poi arrivare il vostro punto d'arrivo sarà quello di arrivare esattamente nel centro dopodiché andremo in ancoraggio lo sguardo sarà fin sull'universale mettendo fuoco sull'universale durante la frazione prenderemo di vista la punta della freccia che normalmente si abbasserà un pochettino una volta raggiunto l'ancoraggio non abbiamo mostrato la testa per tutta la frazione dovremo fare in modo che la punta della freccia che diceva è sporcata secondaria ritorni dei pressi del centro e flutti sulla destra del punto da colpire provate no ragazzi non è che se no alla fine come funziona tira la corda lascia la corda faccio eh faccio eh almeno non è facile anche io sbaglio in modo tale che avremo fuoco il centro ma contemporaneamente vedremo o meglio percepiremo la punta che si è sfocata non dovremo assolutamente cercare di fermarla per collimare ma dovremo lasciarla flutuare lì sulla destra del centro o un altro posto che vi è confortevole occhi fissi sul bersaglio concentriamoci sull'espansione e sulla tensione dorsale e lasciamo ecco questa foto che se gli disegnini valgono mille parole quindi ho fatto anche i disegnini oh io ho bisogno che un istimolo se qualcosa non ti guarda mi deve cattassare ma sono chiesto come la gestisci come qua no gestire la gestione è un casino è difficile eh sì sì ma però vi assicuro che aprire una porta per un'area io vi invito a provare è difficile è contro il mio dico e non ci posso prendere però veramente aprire una porta fenomenale vi invito a aprire questa porta ecco cosa succede sono in fase di mira metto a fuoco sono il centro da colpire la punta della freccia è solo percepita e se ne sta lì sfocata lì vedete dov'è queste hanno sfocato la punta della freccia o tutta l'asta la prima freccia ha impattato nel centro ho ripetuto la mia sequenza e sono di nuovo in fase di mira sto per rilassare rilasciare la punta della freccia è qua la seconda freccia ha impattato nel centro nonostante senza totale di collimazione conscia in questo momento sto per rilasciare la terza freccia e la punta della freccia è qua la terza freccia ha impattato nel centro in questo momento sto effettuando il fondo da notare che la punta della freccia è sempre stata in una posizione diversa rispetto al centro da colpire tutte e tre e questa è la porta che vi si apre questa è la porta che vi si apre vi si apre un mondo completamente diverso da come ve lo potevate immaginare è difficile da capire per un neofita sia istruttore che arciere che basta essere nei palaggi perché comunque la freccia impatti nel centro questo succede anche con l'arco l'olimpico ma mai ancora ma la domanda come fate queste fuori c'avevi la bocca poco asciugata non posso fare un po' di l'arco di l'arco di l'arco non posso l'arco di l'arco scusate 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 non ci posso dica d'olimpico dite qualità d'olimpico dite dite no dite 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 io io ho sentito nessun punto di riferimento con la diotra e quanto che tu dici non può essere specificato da parte che non c'è mai comunicato la vera freccia e bene funziona come con di mare si fa automatico certo certo in modo automatico ti dice ma questo funziona nel compound nel compound funziona così certo anche noi ma soprattutto nel compound il compound che non sa quando porta la freccia che non sa quando rilascerà non sa niente ma la freccia va nel centro perché l'essere umano per sua stupura psicofisica per il suo DNA ha la facoltà di mettere a zero due cerchi concentrici a zero cioè la precisione perfetta non più o meno a zero due cerchi concentrici il nostro subconscio è in grado di metterli a zero e i nostri neuroni in un centesimo di secondo che il tempo ovviamente da rilascio in quel centesimo di secondo hanno tutto il tempo di impartire le tensioni muscolari adeguate per effettuare quella minima correzione quindi vado a completare il discorso se non è volitico tutto questo funziona solo se la parte della posizione di allenamento che deve essere corretto tutto il clock torna se la corda è ben allineata nella posizione corretta verso l'urito non c'è niente nella testa è per quello che io conto tanto sul fatto che la testa deve stare ferma dalla pretrazione è difficile ma se io lo faccio in modo naturale e cioè se qualcuno mi chiama da laggiù questa è la posizione naturale è la posizione più semplice quindi più ripetibile c'è comunque una visione periferica della corda c'ho una visione periferica sulla corda però come ho detto ci sta anche molti lo fanno non è detto che non lo facciano molti lo fanno molti controllano la proiezione della corda ma per vederla almeno sul riser per avere almeno sul riser io la vedo qua la vedo su un bottone non mi serve a niente devo per forza mettermi così ma sono sicuro che io piego la testa sempre nel modo giusto non c'ho la visette non c'ho non questo affare qua senza pesi è una viscia non sta fermo se io non adotto le misure di contrapposizione ecco perché tutto vedi che tutto viene concatenato ecco perché ho bisogno che la spalla dell'arco sia espansa e mantenuta espansa durante la trazione perché questo mi permette di star fermo se non sto fermo se non sto fermo se la forza resistenza e la forza di trazione non sono ben combinate tra di loro non sto fermo e se non sto fermo la testa non sta ferma e se la freccia non parte giusta avrò delle torsioni e la rosata è la maglia come se la forza di trazione è una buona idea è proprio quella una buona idea una buona idea che grandi coach me l'hanno bocciata io grandi coach non ci credo più è quella di partire con il gomito con il gomito in modo tale questo è un esercizio non è che le vedi a tirare così parto così quindi tutto qua pettorali è un bello esercizio ancoraggio distensione rilascio un'attività che potete fare alla paglia intanto istruisco oh non è facile da fare subito state indietro perché dovete attivare anche molti pettorali quindi faccio anche più valutato così intanto è logico che è logico che il braccio dell'arco va esteso ma non bloccato quindi nessun blocco esteso esteso quindi estendo la spalla il braccio stesso ma non deve essere bloccato quindi non ci deve essere questa neanche quella minima intrarotazione che fai con l'arco lì io lo vedo fare buon per me se lo vedo fare però questo movimento qua anche se poi mi allinea oh ma mi fa male io devo avere tanta inerzia davanti uno che mi sta a fare fermo uno che quando rilascio non mi rimbomba sulla spalla ricordatevi che l'inerzia è una forza che si oppone all'accelerazione quindi è molto importante perché la stabilizzazione si è a non avere movimenti così a non avere movimenti così a non avere movimenti così e soprattutto a farvi star fermi quando uscite dal click avere una mira consolidata quando uscite dal click e qua non c'è niente si mettono dei pesi non sono pagliativi per ammortizzarlo un attimo usi soltanto l'arco per i suoi pesi come funziona l'ammortizzazione per lo smorzare dal primo luglio si possono utilizzare al primo luglio di due stanza non si potrebbero usare non si potrebbero utilizzare non si potrebbero utilizzare non servono assolutamente a niente a una beata cippa i funghetti neanche si possono mettere i funghetti si possono mettere questi servono ancora meno cioè questi proprio rallentano i flettenti e proprio io proprio lì ci andrei piano su questo perché a me anche scusa tanto ma mezza libra serve e siccome i funghetti appesantiscono i flettenti mi tolgono la mezza libra io quindi l'unico modo piuttosto le compro e le regalo a Basteri è vero l'unico modo per scaricare le vibrazioni lì non lasciarlo andare e non trattenerlo in nessun modo a Dragone allora poi oggi pomeriggio che teniamo qualche freccia lo vediamo così andiamo possiamo andare no? così vediamo qualche tiro vediamo sul tiro magari chi vuole provare io ho due archi possiamo anche provare i miei perché il mancino spero si sia fatto tutto il suo e vediamo effettivamente il tiro così vediamo effettivamente che fare come correggia e poi allì alla fine la strategia così vediamo anche questa strategia perché è una domanda che io do per scontata perché io il problema delle domande che io ho tante cose magari le do per scontate invece a forza di farle a forza di dire non mi rendo conto di come vengono recepite quindi è molto importante che se non siate timidi io sopporto tutto non è un problema e poi non portano ancora forse andiamo ancora avanti c'è ancora una domanda no? andiamo ancora avanti vediamo se c'è qualcosa arco nudo non muoere anche istintivo perché con l'arco nudo non muoere anche istintivo è impossibile stare ferme e soprattutto ripetitivi in tutte le fasi di tiro è impossibile quindi anche se noi per non so per un motivo per assurdo se fossimo in grado di mantenere consciamente appunto alla freccia nel punto da colpire sarebbe impossibile fare il centro con precisione in modo ripetuto perché? perché non possiamo ripetere la nostra forma di tiro è impossibile poiché non siamo in grado di ripetere il gesto con precisione assoluta non siamo in grado di attivare le catene cinetiche in modo tale che tutto sia sincronizzato a dovere volta da vuoto con arco nudo l'ombo è arco tradizionale con arco olimpico e con par è più apposta ce l'hanno messi più di sia accessorico perché sia più controllabile con l'arco nudo non è controllabile dobbiamo più più fidarci della cinestesi e della propria eccezione così non dico istinto perché se no dico sempre inconsciestino quindi dobbiamo fidarci che siano sempre nonostante che le punte erano in posti diversi il centro è sempre a cosa porto perché c'è stata questa autocorrezione io guardo là e la freccia va indipendentemente che la freccia era un po' scostata adesso è un po' finita ok funziona mi si apre il terzo ma non è finita non è finita molto meglio lasciare la maggior parte dei compiti al subconscio che in fatto di precisione la sa molto lunga ed è bravissimo ottenere tutta la sincronizzazione che ci serve è una questione di fede dobbiamo dare fiducia al nostro cervello che in modo subconscio automatizzerà la precisione alleniamoci in questo modo aumenterà la precisione e diminuirà l'ansia tutto il circolo rizzoso collegato alla fase di mira e ahimè al possibile rilascio anticipato terzo occhio guardare e non toccare vedere questa è la teoria universale della mira poi la vediamo contenuti mentali che non riguardano la mira vera e propria ma fanno parte della semente di tiro come abbiamo visto prima osservare che ciccione osservare elaborare mirare finalmente mirare volo un po' ecco qua vediamo filmanti e giardini vai cambiare gli italiani 3D che ho vinto io taglio i due che distanza mai sarà si lo sa 2015 qua quanto Giannini ci pigliava vedete che Giannini come tirava poi a un certo punto non l'aveva più tirato così molto meglio se immagino i tempi lì veramente tirava fortissimo veramente fortissimo vedete anche la trazione lunga Giannini invece utilizzava la punta della corda sul naso però tutto un tratto finito sparito tutto non siete ancora convinti? no non siete ancora guardate vediamo cosa dice il miglior tecnico arcolimpico del mondo o ci sarà un tecnico arcolimpico golden touch golden touch la mira cosa dice golden touch la mira deve essere affrontata senza ansia grazie deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come il punto focale del tiro al pin del mirino deve essere concesso di fluttuale in modo fluido ovviamente la mira la prega ma questo va fatto più col subconscio che col coscio quando ad arcieri di elite viene chiesto tu come miri la risposta invariabilmente è non lo so accade total arcieri di chisi di pagina 59 e 60 date l'idea tutti dovreste avere questo testo tutti dovreste avere questo testo comunque la mira a casa